e lo dico con tutto il rispetto per tutti no perché se uno guarda alcuni telegiornali sembra che esista solo Landini per fortuna siamo in democrazia in democrazia anche sindacale quindi c'è Landini che rappresenta una fascia di lavoratrici e lavoratori ma non è l'unico depositario della rappresentatività di lavoratrici e lavoratori e quindi è bello e giusto confrontarsi con tutti cosa posso portare in dote al di là dei proponimenti ma è un'unico deposito in dote al di là di solito ma è un'unico deposito in dote al di là di solito